buongiorno a tutti benvenuti in quest'ultimo video un po' chiacchiericcio il senso è molto semplice con questo video mi congedo dal mondo di youtube mi concedo da voi dopo otto anni di onorato servizio ho deciso che non ho più voglia di fare video fondamentalmente e quindi volevo ringraziarvi per la compagnia che mi avete fatto in questi anni per i suggerimenti che mi avete dato sono grata infinitamente grata perché sono nate delle bellissime amicizie che ovviamente continueranno e perché comunque soprattutto negli ultimi penso due tre anni da quando sono cambiati gli algoritmi di youtube che quindi i video in generale hanno avuto un crollo delle visualizzazioni ci sono comunque delle persone che sono fedelissime vorrei ringraziarle una per una anche se poi magari non commentano i video però so che ci sono ecco e niente fondamentalmente la mia volontà è nata negli ultimi mesi perché nonostante mi sia impegnata per realizzare dei contenuti che in italiano non si trovano e sono i fiori di perline magari negli ultimi mesi barra anno anno e mezzo sono sono nati dei canali io non ho più cercato vi dico la verità ho cercato comunque di riempire quel vuoto consapevole ovviamente del fatto che e forse ve lo ricordate anche voi che realizzavo i fiori per finire delle perline ho avuto questo shock diciamo nel comprare ulteriori perline per finire l'ultimo progetto che avete visto che è quello del girasole e mi sono detta basta ho ancora delle perline bianche e rosa che ho dovuto lo stesso comprare per finire la calla che volevo fare la margherita però veramente non in un certo senso non ne posso più perché ve lo sarete sentite dire tante volte lo avrete visto in tantissimi video diversi da dal mio per realizzare i tutorial serve un tempo più o meno infinito per realizzare il girasole io ci ho messo quattro ore significa realizzarlo provare a vedere se va bene perché fondamentalmente io ho imparato con voi non ho insegnato qualcosa l'ho fatto assieme a voi e se il risultato era decente vi proponevo il tutorial per cui voleva veramente dire provare poi farlo con voi girando un video e mi assicuro che non è la stessa cosa perché un conto è fare un petalo in due minuti perché non sia la telecamera in mezzo un conto è farlo con nel mio caso il telefono più che la videocamera è un conto è farlo con la videocamera in mezzo con il filo che impiccia con un occhio al telefono per vedere se sono più o meno inquadrata cosa che ogni tanto ovviamente ogni tanto mi dimentico però tipo se nel mio tempo normale ci metto tre ore a fare un girasole per per fare l'ultimo che ho fatto nella pratica di un tutorial ce ne vogliono cinque poi sono cinque ore di pseudo registrato che vanno montati ed editati e ovviamente non posso proporvi un video di cinque ore ovviamente ci sono degli errori sbagli tagli eccetera quindi condensare tutto in mezz'ora è difficile e ci vuole veramente tanto tempo è venuta meno la voglia di realizzare video in generale quindi non ci saranno neanche più quelli beauty penso neanche quelli di videocreazioni perché proprio mi sono stancata è arrivato per me il momento di dedicare le mie energie ad altri progetti e quindi ovviamente il mio lato creativo resterà si rinnoverà nei prossimi mesi ho voglia di imparare finalmente la saldatura dei metalli che è la cosa che proprio mi preme di più imparare e quindi ho bisogno di ho voglia e bisogno di dedicarmi a cose diverse è venuta meno lo dico con molta tranquillità mi dispiace però è la verità è venuta meno la voglia di condivisione di conseguenza non ho più voglia insomma di realizzare video il motivo principale è fondamentalmente che ci vuole tantissimo tempo sono consapevole che la qualità dei miei video non è molto alta nel senso che ci sono video realizzati tanto meglio dei miei però vi dico io ho anche investito in un programma poco pagato per comprare un programma di editing video perché quelli gratuiti non mi soddisfacevano e mi sono arrivate comunque delle lamentele sui miei video quindi onestamente dico beh per non so 50 o 100 persone che che guardano un video per cui io ci metto un giorno e mezzo a fare onestamente anche no preferisco veramente dedicare quelle 10 15 ore ad imparare per me stessa per permettermi insomma la prova con quello che poi in realtà mi frulla in testa da da un po di anni che sapete io ho virato completamente ai metalli ai figli alle lastre molti anni fa ormai meno 45 anni fa però la saldatura il mio mio zoccolo duro che voglio imparare assieme al seghetto e quindi ho voglia proprio di dedicarmi solo a me stessa detto ciò vi ringrazio veramente tanti perché ho il massimo rispetto per quelle poche sottolineo poche persone che comunque guardavano i miei video però sì sento che non è più la cosa giusta per me ecco e quindi nella mia logica siccome cominciava veramente a pesarmi mettermi proprio a realizzare il video ho detto no basta non ce la posso più fare mi dispiace però non li faccio più con piacere ecco venendo meno il piacere di farli ovviamente perde qualsiasi significato c'è tuttavia un video che ho programmato per novembre perché era un progettino di natale che io ho fatto a febbraio giusto per capirci e credo rimarrà lì e lo vedrete però non ce ne saranno altri non ho voglia di toglierlo perché comunque l'ho realizzato potrebbe essere utile a qualcuno però insomma a parte quello non ce ne saranno mio canale comunque nei prossimi mesi barra anni poi resterà vorrei che rimanesse comunque per chi sta cercando quello che comunque io ho realizzato nel corso degli anni quindi lo troverete mi potete tranquillamente lasciare messaggi sotto perché non è che sparisco da youtube sono iscritta tanti canali quindi lo vedo insomma li vedo e vi rispondo ecco è solo che è tempo per me di dedicarmi ad altro e niente quindi vi ringrazio davvero dal profondo del cuore per avermi seguito in tutti questi anni sottolineo e ringrazio soprattutto le persone che mi hanno seguito negli ultimi due tre anni perché avete avuto una costanza non da poco forse più della mia che realizzavo video un po' ogni due tre mesi ogni tanto però il tempo è quello che è e niente un saluto a tutti ciao